signori buonasera io mi presento sono simone sabbani ho un tablet sono simone sabbani in core tablet perché c'ho il tablet non serve che io dica che faccia mi copro la faccia perché tanto è importante vedere questa cosa mi è stato consegnato da inviato il premio vincenzo crocitti international a simone sabbani la direzione ea capo francesco fiumarella ragazzi è un momento che in cui io mai mi sarei aspettato una cosa del genere e sinceramente lo apprezzo tantissimo tantissimo perché proprio innesca innesca nuovamente quello che i colleghi chi mi ascolta che fa sto mestiere sa di che cosa sto parlando quella quella quel momento di dicare una piatta che tante volte sembra non finire mai e invece poi o squilla il telefono ed è un provino quando ormai dici ma ma chi me lo fa fa ma basta ma che devo dire ma io ne posso stare cioè quali i capelli non ci stanno più ma c'è la barba a destra al contrario ma ancora una volta è troppo basso una volta è troppo alto una volta il pizzetto una volta la barba e c'è sempre un buon motivo e le faremo sapere quanto vi piace questo rifatto e poi arrivano la così il provino il premio e quindi si riparte quindi nuovamente ci si ricrede e ci dobbiamo credere ci dobbiamo questi sono gli auguri più belli che io non sono i miei qua c'è scritto si può essere mani questi sono di tutti questo è di tutti che dobbiamo credere che si possa ritornare nuovamente su un set che si possa ritornare a calpestare le tavole di un palcoscenico che si possa tornare ad offrire al pubblico noi stessi e a star bene a sentirci vivi nel momento in cui sentiamo un applauso ritornare sul set significa rincontrare gli amici che non incontri a tanti anni stanto nel truccatori attrezzisti assistenti di edizione sono intere famiglie famiglie che non vedi per anima ogni volta quando li rivedi poi c'è ancora braccio che oggi tanto ci manca e sinceramente l'augurio che faccio a me stesso difficile mi metta sempre prima mi metta prima però stavolta lo faccio che faccio a me stesso e che faccio a voi perché ci serve ci serve per tornare a crederci e sono convinto che sarà così e grazie a loro grazie a Francesco Fiumarella e alla direzione io oggi mi mi sento un po' più attore pochetto pezzettino ma magari domani no però oggi e cioè mi chiedo davvero davvero ecco qui premio vincenzo crocetti grazie 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 a chi ha deciso questa cosa e spero di poter condividere questo stampato se no ma se mi porto il tablet condividerlo con altre persone e passare una piacevole serata quindi nell'augurio artistico c'è anche l'augurio umano speriamo veramente di condividerlo insieme grazie